ciao a tutti oggi prepareremo il salame al cioccolato il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più tre ore di raffreddamento ingredienti sono burro morbido uova zucchero biscotti secchi cacao amaro liquore rum diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero facciamo polverizzare 10 secondi a velocità 10 mettiamo da parte lo zucchero senza lavare il boccale mettiamo all'interno i biscotti secchi per 5 secondi a velocità 4 trasferiamo i biscotti in un contenitore in una ciotola e teniamoli da parte senza lavare il boccale mettiamo all'interno il burro e azioniamo il bimbi per un minuto 37 gradi velocità 1 adesso aggiungiamo le uova il cacao lo zucchero e il liquore e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4 questo punto aggiungeremo i biscotti aggiungiamo i biscotti chiudiamo con il coperchio senza il misurino posizioniamo la spadola al posto del misurino e azioniamo il bimbi per 50 secondi antiorario velocità 3 spadolando il composto è pronto adesso formeremo il salamino trasferiamo il composto su carta da forno adesso con l'aiuto della carta da forno diamo la forma del salamino adesso riporremo in frigo il salame per 2-3 ore per raffreddare trascorsi il tempo di raffreddamento abbiamo ripreso il salame dal frigo adesso è pronto rimuoviamo la carta da forno adesso lo andremo a impiattare per servire a fette salama al cioccolato grazie e alla prossima ricetta la prossima ricetta grazie grazie grazie